Nicola Paldino è stato riconfermato alla presidenza del Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Mediocrati. La fiducia è stata espressa nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, riunitasi nel centro direzionale di Rende. A causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso, anche quest'assemblea si è svolta senza la presenza fisica dei Soci, rappresentati dal notaio Riccardo Scornaienghi, nella veste di rappresentante designato, che ha ricevuto 1724 deleghe, pari al 31% della base sociale. I soci hanno potuto seguire i lavori in diretta streaming e tutti i punti all'ordine del giorno sono stati approvati all'unanimità. Speriamo che sia davvero l'ultima assemblea che facciamo in queste modalità, inusuale, che non ci consentono di vivere appieno il senso della cooperativa di credito a cui siamo abituati da decenni. La BCC Mediocrati, che è la maggiore banca calabrese oggi operante, anche in questo periodo di pandemia non ha deluso le aspettative dei soci e delle imprese operanti sul territorio. Si ha erogato 3.000 mutui nel 2020, una gran parte garantiti da MCC, quindi dallo Stato, ha sospeso anche tantissimi mutui per 104 milioni di Euro, ha sostenuto le famiglie e i piccoli imprenditori che hanno subito gravi di perdite da questa pandemia, per cui la banca ha dato sostegno e vicinanza alle attività produttive che hanno avuto una delle defiance importanti in questo anno pandemico.